si 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 allora intanto andiamo a visitare questa nave posso vedere? un pescianillo un pescianillo ciao si va bene siamo pronti? si partenza pronti partenza via è buono il sandwich amore? si sei stata bravissima a prepararti erano buonissimi vediamo il babbo alla guida come babbo guidare? stop ok non so se mi reggerai in tutto il viaggio perchè mi sto dicendo a continuazione va in cano a buono troppo occupata in quel paese del babbo ma già ero ansiosa prima figuriamoci ora con se va bene e piazza protege non so se non so se non so se non so se ce l'abbiamo fatta grazie babbo sei stato bravissimo serè ha dormito anche un'oretta lei è stata bravissima sei contenta amore? si 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 è si voleva tanto entrare allora intanto andiamo a visitare questa nave poi entriamo dentro l'acquaio va bene? si dai 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 la voce la voce i i Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Sono... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono... I... 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 qui è la vasta faccia quindi si può bagnate la vasta oh no è andata via guarda si sta avvicinando quella razza guarda si sta avvicinando 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 So they see you at night. Sì, vedi, 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 vedi. Sì, vedi, vedi. Sì, vedi. Sì, vedi, vedi. Sì, 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 vedi.